Sviare l'attenzione al problema centrale, che ci troviamo di fronte a un messaggio, un messaggio, lasciamolo dire con un apologo, che ci manda, io non sono credente, il Signore, il quale guardava nella terra tutti questi giovani che si arrabbattavano a verniciare i muri per far capire alla gente che cosa succedeva, e non succedeva niente, allora ha detto ma poveri ragazzi, adesso ve lo faccio vedere io, e abbiamo visto, il Dio della Bibbia interveniva, mandava le cavallette, lui non ha mandato le cavallette, in tre giorni ha mandato la pioggia di sei mesi, il disastro è stato molto più grande della vernici, e poi però i ragazzotti gli hanno risposto, hai visto? Noi non siamo stati capaci, ma neanche tu, eppure il tuo segnale era molto forte. Uno storico ateo come lei, sentirla evocare in qualche modo un episodio biblico... No, ma la cosa che mi preoccupa, io difendo l'Emilia, non perché sostengo la Sclano Bonaccini, perché sono preoccupato come cittadino italiano, perché se la classe dirigente italiana non capisce che il problema è questo, e va a vedere quanti fiumiciattoli avevano dell'erba in più, certo c'era anche questo, ma non mettono al centro la questione che oggi bisogna unirsi per salvare il pianeta da questo disastro, come cittadino io ho paura di questa reazione, questo è il punto. E allora, proprio su questo e sulla sinistra, facciamo un piccolo passo avanti, perché la nostra concilia De Gregorio ha intervistato il grande maestro.